Oh Rocky Signor Miller, mi scusi signor Miller Le abbiamo fatto preparare qualcosa da mangiare, la prego mi segue in sala da pranzo Non voglio niente Da quando è qui non ha messo niente nello stomaco, non può resistere a lungo No grazie, ma in questo momento non posso pensare al cibo Sì, la capisco 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 Rocky Joe Sì, la capisco